Signora Minister, altri tre punti dopo una partita maschia combattuta, la squadra ha saputo soffrire, ha lottato, fino alla fine ha conservato il vantaggio, una prestazione da sottolineare, quella del Fiuggi, anche se di sofferenza a maniera del suo tempo, ma soprattutto tre punti fondamentali in questo periodo del campionato. Sì, sono tre punti fondamentali, sappiamo di incontrare una squadra che con le grandi ha fatto molto bene, ha raggiunto anche dei risultati importanti, però oggi più che mai bisogna esaltare la prestazione dei ragazzi, perché hanno fatto una prestazione veramente tosta sotto tutti i punti di vista, sotto i punti di vista di sofferenza, di sacrificio, di voglia e di portare a casa la vittoria, di portare a casa il bottino intero. È stato difficile, è stata una partita veramente maschia con tante difficoltà, dove tutti quanti dal primo all'ultimo si sono espressi al meglio e hanno buttato proprio il cuore oltre l'ostacolo, come si dice, ma è una cosa ormai che questa squadra ha il DNA e si nota partita dopo partita e soprattutto quando inizia la partita, minuto dopo minuto. Abbiamo detto tanta sofferenza nel secondo tempo, però nel primo invece è stato un atletico che ha avuto anche le sue occasioni, ha realizzato il gol decisivo, fatta una partita apposta in questo modo, cioè al primo tempo cercare di sbloccarla per poi difendersi. È successo anche in altre partite, ricordiamo anche col Matese 1-0 stesso punteggio, anche inizio campionato quando c'erano altri giocatori, comunque una squadra che ha saputo spesso conservare il vantaggio, concedendo poco all'avversario. Forse oggi ha concesso qualcosina in più, ma bravi anche gli avversari che stavano comunque attraversando un periodo importante anche loro. Sì, secondo me è un'analisi perfetta. Voglio partire dagli avversari perché mi hanno fatto un'ottima impressione. Gli avevamo studiati e sapevamo di affrontare una squadra molto importante, con delle individualità che possono dare fastidio a chiunque e esaltare la prestazione della squadra. Naturalmente l'abbiamo impostata così, poi nel momento in cui andiamo in vantaggio naturalmente non rinunciamo a giocare, ma sicuramente siamo un po' più attenti a non prenderle e cercare magari di consolidare questo vantaggio facendo un altro gol. Al secondo tempo abbiamo sofferto, Novi ha fatto due belle parate, abbiamo salvato anche un gol con Jakubib, però alla fine siamo anche ripartiti due o tre volte, abbiamo avuto due occasioni sul calcio d'angolo. Quindi credo che alla fine la partita è stata disputata, anche forse all'inizio con un po' troppo nervosismo, però è stata disputata veramente dai ragazzi alla grande, interpretata nel migliore dei modi e poi alla fine giustamente hanno vinto questa partita. Quindi oggi salvezza raggiunta con questa vittoria? Penso di sì, ancora non ho visto sinceramente gli altri risultati perché è quello che dico alla mia squadra, noi valutiamo partita dopo partita e pensiamo prima a noi, dopodiché naturalmente diamo un occhio alla classifica. Allora mister, Castronuovo interrompe la sua serie di risultati positivi, non di prestazioni però, perché alla fine la squadra ha avuto le sue occasioni, due legni, parate del portiere, al secondo tempo costantemente è una metà campo del Fiuggi, non è bastato per tornare però a Castronuovo con un risultato positivo. La cosa che dispiace più di tutti perché anche oggi è stata fatta una prestazione di un certo tipo, forse le tante occasioni create oggi non le avevamo avuto nelle precedenti partite, però purtroppo anche lì ci vuole cattiveria perché se tu prendi un pallone, una traversa, due o tre salvataggi sulla linea, due o tre parate del portiere, tutte situazioni che con più cattiveria magari qualcuna di queste sarebbe andata in gol. La cattiveria, dico sempre ma ragazzi, non ci vuole solo nella fase difensiva, ci vuole anche quando fai un passaggio, ci vuole anche quando devi tirare in porta e devi far gol. Noi oggi pur disputando una grande partita non siamo stati cattivi abbastanza. Giovedì c'era San Benettese, un'avversaria, sappiamo, ostica, squadra da vertice probabilmente se fosse questa all'inizio del campionato. Cosa teme di più, ma soprattutto vedendo anche queste prestazioni c'è da ben sperare per la sua squadra? Noi ogni domenica affrontiamo un avversario tosto, abbiamo affrontato Reganatese, Notaresco, Fiuggi stesso, Trastevere, quindi per noi ogni avversario è da prendere nella maniera giusta, non dobbiamo rispettare la forza sicuramente dell'avversario, però non possiamo permetterci di aver paura e di non andare in campo a fare la nostra partita perché sarebbe troppo deleterio. Noi dobbiamo mettere da parte questa partita, prendere le cose buone e da domani cominciare a pensare alla Samba, come entrare in campo ed essere più cattivi e più vogliosi di loro perché noi vogliamo salvarci, vogliamo evitare i play-out e per farlo dobbiamo per forza di cose andare in campo con una cattiveria disumana e dipendentemente dall'avversario dobbiamo avere più fame di lui. Spera anche vissere un calendario un po' più dalla vostra parte, nel senso che avete affrontato, come diceva lei, tutte le migliori, almeno la classifica, questo dice, nell'ultime settimane avete vinto a Reganati, avete fatto grossi risultati, magari la speranza è anche che la parte finale del campionato, magari con qualche squadra che potrebbe essere già salva, quella con una forse già retrocessa, quindi potrebbe essere questa anche qualcosina dalla vostra parte? Dobbiamo pensare a quello perché magari se no quelle diventano le partite più difficili, noi da qui alla fine tutte le partite dobbiamo andarle a fare con uno spirito agonistico proprio impressionante perché sappiamo che sono rimaste poche partite, non ci possiamo permettere di concedere nulla a nessuno e appunto ti dicevo anche prima, indipendentemente dall'avversario, noi dobbiamo essere, andare in campo proprio determinati al massimo e dobbiamo in tutti i modi cercare di battere l'avversario che abbiamo di fronte, esso sia la San Vettese, esso sia il Nereto, quindi fa poca differenza il blasone delle squadre che incontri, è importante la determinazione, la convinzione in cui scende in campo.